Elettronica Service, sistemi di sicurezza, antifurti e videosorveglianza. Viene a trovarci in Corso Mazzini 258 a Cava dei Tirreni nei pressi dello stadio comunale. È ritornata a distanza di qualche anno a Pagani la festa in onore della regina delle nostre tavole, la Pinsa. L'evento, in programma dal 6 al 10 ottobre a Vasca Pignataro, voluto fortemente dal presidente dell'Associazione Accademia della Pizza, Carmine Marrazzo, prevede un ricco calendario di serate all'insegna della gastronomia e dello spettacolo. La manifestazione si avvale del patrocinio del comune di Pagani, della preziosa collaborazione di Alfredo Amendola e della direzione artistica di Alfonso Pandolfi. Grande successo di pubblico quello di sabato 7 ottobre, per la tappa del tour Una voce per l'agro, svoltasi nell'ambito della Kermess con le esibizioni di artisti emergenti e scuole di ballo ed organizzata e diretta dal poeta Pietro Baratta, condotto da Giuliano Grimaldi con la presenza della bellissima attrice Anna Alfano.